Nel corso di quest'anno, del 2024, inseriremo 90 autobus nuovi nella flotta aziendale, che è complessivamente Cuba 790 mezzi. Di questi 90, 67 sono stati già consegnati, li presentiamo oggi, gli altri 27 verranno consegnati nei prossimi due mesi. Quindi un rinnovamento della flotta, sostanzialmente abbiamo ottenuto anche un altro risultato, che la vetustà media del parco rotabile di Tua in questo momento è al di sotto dei 9 anni, 8.8. Quindi siamo al di sotto della media nazionale. Questo è un ottimo risultato perché significa che stiamo migliorando continuamente il servizio nei confronti dei nostri utenti, fornendo loro degli autobus più efficienti, più sicuri, più ecologici, che possono anche andare incontro alle nuove esigenze dell'ambiente, rispetto dell'ambiente e tutte le condizioni moderne che sono imposte nel trasporto pubblico. Sono subito in servizio questi 67, quindi abbiamo anticipato di qualche giorno i tempi proprio per farli circolare già prima dell'apertura delle scuole. Proseguiamo nell'opera di rinnovamento del parco mezzi di Tua con questi acquisti, oggi 67 mezzi, entro la fine dell'anno ne arrivano altre decine, quasi 100 nel corso dell'ultimo anno su meno di 800 complessivi. Il risultato portiamo a meno di 9 anni, a 8 anni, 8, l'età media del parco mezzi, che è uno dei risultati migliori che si possono vantare nelle aziende di trasporto italiane. Quindi possiamo dire che oggi l'azienda di trasporto pubblico abruzzesi è una delle aziende in Italia con il parco mezzi più moderno, più efficiente e più sostenibile dal punto di vista ambientale.